Ciao a tutti i lettori di BetTest.it, sono appena uscito dal cinema Arclight di Hollywood, che è un cinema molto grande e molto famoso che si trova su Sunset Boulevard, dove ho visto Boyhood, il nuovo film di Richard Linklater, fa ridere chiamarlo un nuovo film, visto che ha una particolarità, è stato girato nell'arco degli ultimi 12 anni. Il film è uscito in 5 sale in tutti gli Stati Uniti, in 5 cinema in tutti gli Stati Uniti, è una release limitata e credo che finirà, adesso poi i posteri ce lo diranno, però finirà per essere un po' il film indipendente dell'estate. Come sapete ogni anno negli Stati Uniti, in media, c'è un film indipendente di solito di Fox Searchlight che finisce per avere molto successo. Questo è un film molto indipendente, è distribuito da IFC Films, che lo ha coprodotto, e dubito che finirà per avere l'enorme successo di pellicole come Whitney Sunshine, eccetera, che erano costate poco e avevano guadagnato più di 100 milioni di dollari, oltre che trionfare poi agli Oscar, eccetera. Però avrà comunque molto successo, ne stanno parlando tutti questo weekend, e ha buona ragione. Noi l'avevamo già visto, non io, ma Gabriele Niola, al Festival di Berlino, ma appunto io ho voluto andare innanzitutto a vederlo perché è un film che ci tenevo molto a vedere. E poi anche per vivere un po' questa esperienza del film indipendente che apre in poche sale negli Stati Uniti e tutti ne stanno parlando. Ironicamente, poche ore dopo la proiezione alla quale ho partecipato io, si teneva nello stesso cinema un Q&A con Patricia Arquette e Ethan Hawke, i due protagonisti adulti del film. Purtroppo i biglietti erano già sold out da tempo ormai, per cui mi sono perso questa occasione. Però è anche per farvi capire come questo cinema in particolare sia un cinema appunto particolare, nel quale per esempio prima della proiezione o di ogni proiezione arriva un addetto, un responsabile che dice sono una persona che controllerà il livello di qualità in cui viene proiettato il film in questa sala e spero che vi divertiate, vi piaccia il film e spiega tutto quello che succederà. Cioè ci saranno 5 minuti di trailer, poi ci sarà il film, poi ci sarà un piccolo backstage realizzato a noi. Un'esperienza cinematografica davvero interessante che ti fa venire voglia anche di abbonarti. Comunque per tornare a Boyhood, è un film che è incredibile, è incredibile nel senso che è un film completamente diverso da qualsiasi film che io abbia mai visto in vita mia, principalmente per l'idea in sé di girare questa pellicola in 12 anni. È molto realistico, ma è realistico per questo motivo, nel senso non c'è make up, non ci sono effetti di invecchiamento negli attori. Ethan Hawke invecchia in 12 anni, Patricia Arquette cambia molto in 12 anni e la cosa più incredibile sono i ragazzini, il bambino protagonista e sua sorella, che crescono letteralmente nell'arco dei 12 anni e si evolvono. Il film in sé è la storia, verrebbe da dire, visto che sia un Boyhood, è la storia di questo ragazzino, ma uno degli aspetti veramente interessanti è il fatto che sia la storia di tutta la sua famiglia, una famiglia che noi incontriamo spezzata fino all'inizio, perché i genitori hanno divorziato da tempo e quindi anche le tematiche sono abbastanza pesanti, abbastanza toste, però sono anche molto comuni. Inoltre si ripercorrono gli ultimi 12 anni della storia americana. È una grande storia americana, ti verrebbe da dire un po' come Forrest Gump, ma chiaramente è un film completamente diverso. È una piccola storia, è la storia di un ragazzino qualunque che però vive quello che l'esperienza collettiva americana vive appunto nella sua giovinezza, cioè cambia di città a città. Io sono qua da due mesi e ho conosciuto parecchi americani che mi hanno raccontato di essersi trasferiti chissà quante volte nella loro vita. È una cosa che per noi italiani è molto difficile da capire, perché adesso non sono i nostri lettori, però io non è che ho traslocato molte volte nella mia vita. Mentre per gli americani è assolutamente normale, così come appunto l'esperienza del divorzio, l'esperienza dell'alcolismo, l'esperienza per esempio anche dal punto di vista politico, le elezioni come momento collettivo, anche di schieramento e di divisione, così come l'avvento del college che poi è un po' l'esperienza conclusiva di questo film. E anche qui uno dice, è la storia di questo ragazzino, non è vero, è la storia di tutta la sua famiglia. C'è una scena bellissima alla fin del film in cui tu stai pensando, cavolo, mi viene in mente quando io ero ragazzino e mi rendevo conto che appena diplomatomi al liceo avevo davanti ancora tutta la vita davanti a me. E poi ti fermi e pensi che hai visto anche gli ultimi 12 anni di vita della madre di questo ragazzino, di Patricia Arquette, e lei lo sottolinea. E quindi ti fermi a riflettere che è la storia di tutta la sua famiglia. Occhio, sentitevi sottopondo un elicottero, è una cosa assoluta e comune per la vita di questo ragazzino, magari stai cercando un ricercato. E poi un'altra cosa veramente interessante in questo film è che è un enorme spot della Apple, nel senso si ripercorrono anche gli ultimi 12 anni della storia della Apple, si vedono computer, si vedono cellulari, non solo, anche gli ultimi 12 anni della tecnologia, gli ultimi 12 anni della nostra storia, l'avvento di Facebook, l'avvento di social network e quant'altro. Quindi è un grandissimo affresco di una cosa assolutamente banale, che è la vita, ma è anche una cosa assolutamente straordinaria. E arrivati alla fine del film, io personalmente me ne sono reso veramente conto di quanto può sembrare da un lato insignificante e da un lato incredibile la vita di un bambino, di un ragazzino qualunque e quindi anche la vita di tutti noi. Insomma, un film che adesso in Italia verrà distribuito nei prossimi mesi è comunque un film veramente incredibile che consiglio a tutti di vedere. Alla prossima!